buono salve a tutti i ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di non lo so però in questo nuovo video faremo vedere una challenge una challenge del cibo questa challenge del cibo è una che praticamente abbiamo dei cibi o bevande che poi si deve far assaggiare a qualcuno o farlo dolare per poi indovinare che tipo o che cibo sarà che bevande o che cibo sarà la nostra vittima non diciamo vittima il nostro paziente sarà mia madre che si chiama olessia alessia non importa che adesso vi dico quali sono i ingredienti da fare esaggiare ci abbiamo ammellata ai frutti di bosco acqua latte di riso curcuma quella è una radice che cresce sottoterra e poi c'è però questa qua è pulverizzata e poi per finire ci abbiamo il buco il buco ci vediamo avrà poco adesso chiamerò mia madre ok la vittima ovvero mia madre è venuta adesso gli facciamo assaggiare il primo ingrediente segreto ovviamente posso stare tranquilla ricchi sì sì o e dimmi che cosa devo bere ma questo schifo sa di grano saraceno mamma mia e latte di riso non ho mai bevuto così senza niente abbastanza sì uno su cinque ok adesso tocca ai avete visto qualcuno c'è fame in questa casa sì mia madre no tu c'hai fame senti la pancia come urla no ricchi mi stai gocciolando questa roba ricchi non mi gocciolare addosso ti prego ho messo la mano sotto ma che devo fare mangiare sempre mangiare ma come mette marmela togli sta roba è gocciolante una marmela togli sta roba e poi cosa tocca alla cosa più facile ovvero fredda ha sentito il boll ha toccato non bene vai dalla bottiglia dalla bottiglia non vale la bottiglia fredda acqua ma questo è proprio difficile è difficile e poi che manca ah ecco e sono tre o no ricchi non mi gocciolare addosso con le marmellate di mirtilli guarda quelle non si è che sta roba dimmelo al me burro sciolto no questa la devi sputare la mia fazzoletta grazie no non lo vuole così è schifo spalma sul pane è schifo parla bene lì chi è sto schifo no è schifo sto burro non è schifo e poi è sciolto dove l'hai preso il burro sciolto riccardi qui lo devo l'ho preso perchè è sciolto perchè fosse sta muovendo fuori mette la posta poi per ultimo che mi pare ancora non assaggiare riccardi posso federmi? metto la mano sotto ecco mamma mia curcuma curcuma eeeh si e curcuma 4 risposte esate su 5 comunque è un buon risultato ho finito? si apriti pure le band e si gli occhi oh mamma mia e questo è il latte di riso l'acqua di là ci sta e si ah la marmellata è un po' sbagliata tutti di bosco eh si tutti in pezzi però ho sentito Mertillo proprio sulla lingua ah buono comunque per questo video questo mi è piaciuto più di tutto però mi ha macchiato la questo qua per questo qua è un errore per questo video è tutto ehm arriviamo a 5.000 like e vi farò per questo bicchiere per che serve sto per che serve sto bicchiere per te l'avevo detto per la stabilità sono ben dita ah scusa e comunque per questo video è tutto grazie per questo video è tutto e ehm raggiungiamo i 5.000 like si si quando quando li raggiungiamo faremo un nuovo video quindi